good morning vietnam ad appieno gentile è uscita una gran bella giornata sono le tre e mezza fa giornata che si è ripigliata la grande ora vado a fare un paio di commissioni mi preparo per stasera video sul napoli valutazione un po della rosa analizziamo i nuovi colpi e le previsioni per questa annata 2019 2020 campionato champions e la gupa italia ovviamente reduci da zero titoli napoli diciamo la grande cenerentola della situazione in cui sembra che potesse potrebbe dare qualcosa in più ma alla fine non riesce mai a scavalcare la juventus titoli una cippa lippa però comunque sia ad avanti un trattore infermabile come la squadra di torino a juventus formidabile rosa comunque passiamo a leggere la rosa del napoli con ospina portiere colombiano nazionale meret e come terzo portiere carneriz difesa con luperto tonelli maximovic malcù che personalmente mi piace molto vedo che cance l'ancelotti lo utilizza mario rui isai che doveva andare via ma alla fine è rimasto gulam un altro che personalmente a me piace se riuscirò al 27 settembre esce fifo 2020 penso che l'acquisterò a day one magari se riesco faccio qualche video un road to one division o l'ultimi team adesso vediamo poi andiamo avanti con di lorenzo nuovo acquisto secondo me si è già integrato bene nella squadra sulla fascia destra ha fatto un gol molto molto importante delle 3 a 3 contro la juve anche se non è servito nulla il nuovo acquisto manolas las las gran bell'acquisto gran bell'acquisto un po la difesa già del napoli era una ottima difesa adesso con manolas e veniamo a culibalu culibali calilu culibali grandissimo giocatore cappellata cappellata pesante contro la juve però vabbè capita anche i migliori giocatori di fare qualche stronzata gliela perdoniamo culibali miglior difensore della serie a diciamo che rappresenta l'elemento di spicco del napoli quel qualcosa in più nel napoli un giocatore fortissimo in marcatura mi piace un sacco colpo di testa veramente veramente un gran bel giocatore centrocampo è il massa che viene dal fenerbahce che comunque se dovrebbe essere un giocatore molto duttile piotr zieliski anche lui viene dal sarri team di empoli anche lui ha fatto molto bene un trequartista centrocampista fabian ruiz a sorpresa non lo conoscevo sta facendo molto molto bene nel campionato di serie a allan lo conosciamo tutti un giocatore che si chiama il cantè della serie a italiana perché veramente è dappertutto è molto bravo tecnicamente quantità non smette mai di correre poi a centrocampo abbiamo anche Gianluca Gaetano praticamente viene dal bivoglio del napoli potrebbe essere una giovane promessa inserito anche nella lista di campionato e ciciretti non pensavo che rimanesse alla fine non so se ha deciso lui di rimanere non è stato ceduto non ha citato le varie offerte che gli sono state proposte ma armando ciciretti il pazzo che giocava nel benevento giocatore molto tecnico un bel sinistro mi piace mi piace a siamo al reparto offensivo il reparto offensivo del napoli è molto perché è scoppiettante mi piace molto molto tecnico molti giocatori agili come lorenzo insignia lorenzo magnifico di pupillo dei tifosi napoletani anche se un po perso visto che doveva essere ceduto ha avuto un po degli attriti con i tifosi ma era il pupillo del dei tifosi del san paolo poi lozzano è il ciuchi lozzano secondo me guardate questo qui 40 milioni di euro veramente ben spesi da psv endoven è un gran bel giocatore ha già fatto un gol alla juve giocatore velocissimo bravissimo nell'uno contro uno dribbling tecnica mi piace mi piace poi abbiamo josea maria kalehon inamovibile sulla destra esterno alto di destra bravissimo spagnolo poi vabbè attacco con milic il nuovo acquisto fernando liorente prossimo la pensione prossimo a essere il sostituto di milic stavo scherzando ovviamente anche se è un bel giocatore anche se nel campionato italiano ha già giocato e quindi ha una il gap che non deve che non ha quell'ostacolo che non deve sormontare del campo di italiano nell'ambientarsi perché sappiamo già che può fare bene anche nel nostro campionato vediamo secondo me è molto molto anziano cioè non è anziano però comunque sia 35 36 anni non so quanto napoli a tre competizioni campionato champions e coppa italia e in linea prettamente teorica campionato lotta per vincere anche se secondo me non non farà più del secondo terzo posto come tutti gli altri anni perché quest'anno si è giunta anche all'inter che l'inter dovrebbe essere la vera concorrente della juventus poi abbiamo la champions che cercherà di dimostrare di essere cresciuta e maturata anche nell'ambito europeo perciò appunto era a un massimo una semifinale un quarto di finale di champions league glielo auguro ai tifosi napoletiani e quindi non lo so con mertens e younes ovviamente dries mertens ormai fatto diventare da sarri prima punta è un bomber di razza è quel nano malefico che te la butta dentro sempre comunque gol bellissimi tecnica agilità forte nel dribbling di un contro uno sa muoversi benissimo negli spazi non nasce come prima punta ovviamente ma come esterno perciò ancelotti potrà metterlo sia come prima punta che come esterno all'occorrenza vediamo un po non vedo con ancelotti di solito un è un alleatore vabbè fantastico che secondo me tipo nel milan aveva adattato il giocatore che aveva al modulo il famoso albero di natale con napoli potrà farlo potrà fare una rosa ad hoc per il napoli il napoli è un bel gioco sa muoversi a memoria ormai tanti anni che questi giocatori giocano insieme non è mai stata rivoluzionata completamente la squadra vediamo un po ovviamente forza napoli uno scudetto del napoli mi farebbe molto contento anche se non lo vince l'inter ma l'importante che non lo vince la vince l'inter forza napoli va guaglio e non fare l'umanamento vi saluto al prossimo video e wow